Questi segni qua sono dovuti dal fatto che l'abbiamo montato subito, quindi è uscito un po' di chimico, quello che avevo detto, però è molto interessante. Ah, questo è perfetto. Perché si cazza sempre che baglio il naso. Che fece? Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. E quindi, ecco, niente. Però, vedete, è un lavoro molto onesto, non si cambia niente, non si modifica niente. Qui si gioca sulla profondità, vedete questa mano, full arno, che diventa molto particolare.